Il rischio è evidente, lo stato mentale lo si traduce facilmente dalle fotografie delle sue riunioni, non c'è nessun leader al mondo che si siede da una parte di un'enorme stanza tutti gli altri dall'altro, quindi che cosa teme, non so, un contatto per il Covid è allucinato per questo, comunque non è una persona tranquilla, poi si è detto, molti colleghi hanno parlato quel gonfiore che potrebbe essere cortisone, questo pare che così sia e allora si spiegano anche tanti effetti collaterali del cortisone che sono anche psichici, chiaramente psichici, ma al di là di questo mi sembra proprio una personalità tipica del tiranno, paranoico, non si fida di nessuno, neanche dei suoi più stretti collaboratori, pensa di essere salvifici politico, vuole salvare la grande Russia, tutti i tratti che però non è che ce li ha dai. No certo, non sono diciamo comparsi in questi giorni dice lei giustamente. Quando ci fa comodo non li guardavamo, adesso che non ci fa più comodo guarda caso li guardiamo. Ecco poi le voglio chiedere una cosa però mi faccio andare.